Buongiorno, ho deciso di farvi un regalo in questo giorno speciale anche per me. Vi leggo una poesia tratta dalla mia ultima raccolta dal titolo L'ora del sole medio edita dai quaderni del bardo di Stefano Donno che presenterò a Milano sabato 20 gennaio presso il CIC Centro Internazionale di Quartiere, ma ve ne parlerò ancora ed è una minaccia. Vi aspetto, vorrei avervi con me quel giorno a parlare di apocalissi, a ballare sulle macerie se è possibile. Tutto davanti, abbiate tutto presente davanti a voi prima di fare la guerra, sia chiara la miseria, la malattia, l'abbandono. Abbiate negli occhi i giorni disperati e vuoti di mani. Abbiate davanti a voi l'ordine delle cose da guardare, le voci dei vostri morti, quell'odore di madre sottoterra sottratta per sempre, le stagioni del vivere al suo inizio, senza ritorno. E saprete le ragioni del morire in pace finché avrete vita.